E' finalmente ripartito il moto estate e come di consueto siamo qui a Varano e andiamo un po' a ripercorrere la giornata di oggi, quella di sabato caratterizzata da un po' di sole, nuvole e anche un po' di pioggia verso la fine. Sembra già essere lotta a due nella sportbike con Colombi che ha stampato un 1.08.613, l'unico ad essere sceso appunto sotto il muro dell'1.09. Solo Sorrenti ha provato a contenerlo, è staccato più di 4 decimi circa, mentre invece tutti gli altri pagano già più di un secondo. Invece il povero Carone, sfortunato, è scivolato e purtroppo è risultato unfit e salterà tutto questo weekend di gara. Nella 600 Open invece troviamo in prima posizione Michael Coletti e circa come nella sportbike solo un pilota provato a contenere il leader. Parliamo di Simone Campanini staccato a circa due decimi. Una curiosità, in questa cuno della 600 Open abbiamo trovato nelle prime tre posizioni ben tre costruttori diversi, parliamo di Kawasaki, Yamaha e Demeo Augusta. Ha detto la sua invece Lorenzo Voque nel primo turno di prova ufficiale nella 1000 Open, stampando un 1.08.210, mettendosi alle spalle Lobartolo e Cristini, entrambi sotto il secondo. Curiosità anche qui, abbiamo tre marche diverse nelle prime tre posizioni, Yamaha, Honda e BMW, più attardati invece con le Ducati, Costantino e Boccelli. La Ray Satak 600 invece ha visto una manita di Yamaha comporre il Q1, Bettel e Osler sono gli unici ad essere scesi sotto il muro dell'1.10 e sono separati solamente da un decimo, più attardati invece è Benedetto che paga 7 decimi poi copponi ai bassi, ma c'è ancora comunque qualche dettaglio da sistemare per domani. Sulla sua BMW Gabriele Proietti è in pole position provvisoria nella Ray Satak 1000 qui a Varano, l'unico ad essersi avvicinato sotto il secondo è Facciolini, mentre Vitellaro è terzo, però lui è sopra secondo, però vicinissimo a Facciolini. Mentre invece si sono già concluse le qualifiche della 300 che hanno visto svolgici la Q1 e il Q2 in questa giornata di sabato e hanno visto Stefano Sala prendersi con i denti la prima postagionale davanti a Virone che è staccato di un decimo, mentre Cervioni terzo a due decimi. C'è comunque ancora una buona fetta di torta da decidere perché siamo solamente al primo giorno della nuova stagione dei trofei molto estate, appuntamento a domani con le ultime qualifiche dove si decideranno le grie di partenza e poi ovviamente collegare, rimanete connessi e non mancate.